L'esempio di Napoli è l'esempio evidente che la sinistra assieme alle forze civiche può essere maggioritaria e governare le città e quindi lo spazio c'è assolutamente, dobbiamo riuscire a fare quello che si è fatto a Napoli in tutta Italia. C'è spazio dunque per una sinistra a sinistra del PD, da Avellino Paolo Ferrero, segretario nazionale di rifondazione comunista, applaude al modello Napoli ma nel contempo boccia l'idea di alcuni soggetti politici orfani del PC di ricostruzione del partito che fu di Togliatti e Berlinguer. C'è questo progetto di rinascita del partito comunista, rifondazione ne fa parte? No perché pensiamo che dire oggi che si rifà il partito comunista è in realtà una presa in giro, non si può rifare un partito che aveva due milioni di iscritti è una grande storia e credo che bisognerebbe evitare di fare come Rotondi che ha rifatto la democrazia cristiana, non se n'è accorto nessuno. Vero motivo della visita di Ferrero ad Avellino un'assemblea sul TTIP, acronimo che sta per Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti, un accordo di libero scambio negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. L'obiettivo dichiarato è quello di integrare i due mercati riducendo i dazzi doganali. Il trattato sta incontrando una forte opposizione. Quel trattato è una schifezza, prevede nella sostanza la distruzione dell'agricoltura di qualità perché metterebbe le aziende agricole italiane che sono piccole e basate sulla qualità in diretta concorrenza con quelle statunitensi che sono da 170 ettari medie, cioè vuol dire distruggere l'agricoltura italiana. In secondo luogo obbligherebbe lo Stato a privatizzare pressoché tutto perché si prevede di fare dei tribunali speciali, privati, che permetterebbero alle multinazionali di denunciare gli Stati quando non mettono a gara i servizi. E quindi vuol dire demolire non solo non avere l'acqua pubblica, come abbiamo deciso, ma di non avere più la sanità pubblica e tutto il resto. Grazie a tutti.